Che sensazioni le ha suscitato il video e come questo fenomeno si sta sviluppando a Bologna, nella provincia proprio di Bologna? Sul fenomeno non ti so dire perché io vedo come da cittadino quello che vedete anche voi, che vedono tutti, quindi secondo me questo video ha dato alcuni suggerimenti, indicazioni, alcuni filoni di inchiesta su quali bisognerà ancora lavorare. È un video che mi ha suscitato molte emozioni e penso che le suscitri a chiunque si guardi questo prodotto di comunicazione perché va a toccare le corde nostre più emotive. Mi ha fatto tornare indietro di molti anni perché mi ha fatto ricordare un certo assistenzialismo, un certo pietismo, un certo modo di parlare di disabilità, allora si diceva handicap, di raccolte di beneficenza, di modi per non risolvere il problema ma per tamponarlo, ecco soltanto. E invece io credo che lavori come questo delle due ragazze che lo hanno presentato questa sera possano servire per incidere invece concretamente sulla vita anche di queste persone e mi sembra di aver capito che è di quello che c'è bisogno oggi qua. Grazie a tutti.